Il fibroma cellule giganti rientra nelle cosiddette iperplasie reattive ed è una lesione reattiva di origine traumatica che rappresenta la controparte periferica del granuloma gigantocellulare intraosseo. Microscopicamente ci sono cellule giganti che sembrano originare dagli osteoclasti presenti all'interno del legamento parodontale. La sede di insorgenza è la gengiva e può colpire in egual modo maschi e femmine di tutte le età. La diagnosi è puramente clinica e la terapia più eseguita è l'escissione chirurgica dopo appunto la rimozione di eventuali fattori traumatici che la vanno appunto a determinare. L'escissione chirurgica deve essere seguita da un accurato curettage dei tessuti dentali adiacenti per eliminare eventuali depositi di placca e di tartaro che rappresentano una forma di irritazione cronica. Queste fonti di irritazione cronica facilitano la formazione di iperplasie reattive. Tuttavia spesso nonostante un accurato curettage e una terapia chirurgica di escissione queste lesioni tendono a recidivare in circa il 10% dei casi. Un'altra lesione molto simile è il fibroma ossificante periferico. Anche il fibroma ossificante periferico è una lesione reattiva e anche essa ha un aspetto clinico e patologico simile al fibroma oppure anche al granuloma piogenico che rientrano nelle iperplasie reattive. Il fibroma infatti è un tumore benigno di origine reattiva. Il fibroma ossificante però è distinto dal granuloma piogenico sulla base della presenza di calcificazioni focali che verosimilmente originano dal periostio oppure dal legamento parodontale. Anche in questo caso la diagnosi è essenzialmente clinica e la terapia consiste nell'escissione chirurgica. Molto importante anche in tal caso è l'esecuzione di un'escissione profonda sino ad arrivare al periostio e poi l'esecuzione di un curettage dei tessuti dentali per andare ad eliminare quelli che sono gli stimoli irritativi che potrebbero essere alla base dell'insorgenza di queste lesioni che sono comunque del tutto benigne.